Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi parliamo di una piattaforma davvero molto interessante che sarebbe Nexo Finance. Nexo è un wallet di criptovalute davvero validissimo sia per quanto riguarda il fattore sicurezza sia per quanto riguarda le grandissime potenzialità, le grandissime funzionalità che possiede al suo interno. Ma come se non bastasse, al momento è attiva anche una promozione davvero assurda con cui potete guadagnare 25$ all'iscrizione e 25$ per ogni singolo amico che inviterete all'interno di questa applicazione. Ragazzi, ovviamente parliamo di una promo davvero da non perdere, ma come la maggior parte di queste promo purtroppo non abbiamo una data di scadenza, quindi se volete approfittare di questa promo bomba vi conviene farlo il prima possibile perché appunto non sappiamo se e quanto durerà. Ma prima di iniziare mi raccomando lascia un bel like al video, iscritti al canale se non l'hai già fatto perché per te è totalmente gratuito, ma faresti davvero tantissimo per me. Ti ricordo inoltre che ti lascio qui sotto in descrizione il link al mio canale Telegram e al mio profilo Instagram dove continuo costantemente a portare nuovi contenuti. Chi mi seguiva già sul canale Telegram e sul profilo Instagram infatti ha avuto la possibilità di vedere questa promozione almeno uno o due giorni prima di quando sto scendo questo video. Quindi se vuoi avere anche tu queste news il prima possibile, vai e iscriviti anche lì. Sigla e partiamo subito! Per cominciare nella parte iniziale del video andremo ad analizzare brevemente Nexo vedremo un po' come funziona e quali sono le funzionalità particolari di cui parlavo prima che secondo me sono davvero molto interessanti. Successivamente andremo a vedere come si effettua l'iscrizione e vedremo soprattutto come andare a prendere il fantastico bonus e approfittare quindi della promozione che stanno facendo. Siccome so che magari qualcuno può essere interessato esclusivamente al bonus oppure esclusivamente ad un'altra parte del video, vi lascio qua sotto il video suddiviso in varie parti in modo tale che per esempio se volete vedere soltanto la parte relativa a come ottenere il bonus potete schippare tranquillamente e trovate direttamente la sezione del bonus. In questo modo in sostanza vi verrà più facile cercare la parte che preferite di più. Ok, siamo qui nella home page di Nexo Finance parlando di una delle cose che secondo me sono tra le più importanti parliamo del fattore sicurezza. Trasciando il fatto che ha delle eccellenti recensioni all'interno di Trustpilot possiamo vedere anche che sia appoggiata dalla società Ledger che per chi non conoscesse Ledger sostanzialmente è una delle società, delle aziende che crea degli hardware wallet tra i più sicuri in assoluto al mondo si chiamano proprio Ledger e magari qualche volta ci farò anche un video dedicato ma questa è un'altra storia. Parlando quindi del fattore sicurezza e affidabilità Nexo personalmente è una di quelle che reputo più sicure in assoluto praticamente alla stregua di Crypto.com e Binance, giusto per capirci. Ovviamente all'interno di Nexo abbiamo la possibilità di andare a fare compra-vendita di criptovalute ma poi passiamo invece alle parti che secondo me sono più interessanti perché Nexo offre una sezione Earn davvero molto molto interessante nella sezione Earn noi possiamo andare a depositare le nostre criptovalute per ottenere una rendita passiva letteralmente lasciando lì le nostre cripto per esempio entrando qui nella pagina di Earn di Nexo vediamo che abbiamo la possibilità di guadagnare fino al 17% di rendita semplicemente con le nostre criptovalute in modo completamente passivo scendendo giù vediamo questa tabella dove vediamo tutti i rendimenti delle varie cripto vediamo che abbiamo addirittura la possibilità di guadagnare fino a un 12% di APR con USDT addirittura un 17% con USDT quindi veramente tanta roba ragazzi perché sono fondamentalmente delle stable coin legate al dollaro quindi sicuramente può essere molto interessante perché appunto non abbiamo fluttuazioni di mercato e in sostanza possiamo mettere a rendita la nostra liquidità quindi veramente ottimo però come possiamo vedere abbiamo anche la possibilità di guadagnare un 8% da BTC un 8% da ETH e tanto altro ancora ovviamente ci tengo a sottolinearlo queste sono le percentuali massime che si possono raggiungere perché effettivamente Nexo fa due distinzioni possiamo mettere ad esempio in questo caso l'earning in Nexo quindi noi mettiamo ad esempio a rendita i nostri USDT e guadagneremo invece denaro guadagneremo il 12% in token Nexo invece vogliamo guadagnare la stessa cripto che mettiamo a rendita dobbiamo mettere earning kind e in questo caso i guadagni si abbassano di circa un 2% anno in ogni caso restano veramente delle percentuali molto 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 allettanti anche perché guardate qui con UST abbiamo addirittura un 15% quindi veramente tanta tanta roba un'altra cosa interessante che si può fare all'interno di Nexo è la funzionalità di Borrow un'altra funzionalità che offre Nexo è la possibilità di fare Borrowing abbiamo la possibilità di mettere a collaterale le nostre criptovalute per poter prendere un prestito in altre cripto e poterle utilizzare come preferiamo per utilizzarle in DeFi, per farci trading, non lo so o per metterle anche in rendita all'interno di Nexo Nexo offre anche la propria carta con cui è possibile guadagnare fino al 2% di cashback ovviamente queste percentuali non sono fisse ma sono variabili per avere tutti questi benefici al massimo della loro funzionalità dovrete effettivamente detenere parte del token di Nexo ma adesso andiamo alla parte che secondo me interessa a quasi tutti quanti voi ovvero come andare a guadagnare il bonus di 25$ all'iscrizione che vi consentirà chiaramente di guadagnare 25$ per ogni singolo amico che inviterete nell'applicazione per andare quindi a guadagnare il bonus come si fa? prima cosa dovrete iscrivervi con il link di referral che trovate qua sotto in descrizione oppure nel canale Telegram una volta fatta la registrazione che è veramente molto molto semplice dovrete necessariamente andare a fare tutti e tre i livelli di KYC per fare il KYC è veramente semplicissimo basta inserire i propri dati personali inserire i propri documenti insomma sempre le solite cose che ormai probabilmente sarete anche più bravi di me a fare la cosa veramente ottima è che Nexo è veramente rapidissimo nell'effettuare la verifica dei vostri dati personali infatti vi basteranno circa 30 minuti però effettivamente come dice il sito stesso potrebbe volerci fino ad un giorno lavorativo come fare poi per guadagnare effettivamente il bonus? vi faccio vedere direttamente nello smartphone come proseguire perché è veramente semplicissimo però insomma magari così viene ancora più facile ok siamo nella home page di Nexo questo è il mio account come vedete nel mio portfolio ho 105 dollari e 20 cosa bisogna fare per guadagnare 25 dollari è veramente semplicissimo clicchiamo qui su più mettiamo top up scegliamo un asset con cui vogliamo ricaricare io personalmente vi consiglio Litecoin perché le spese sono veramente bassissime le gas fee sono veramente bassissime quindi scegliamo LTC ecco qui a questo punto come vedete vi spunta il solito deposit address che cosa bisogna fare? chiaramente bisogna fare copia ok a questo punto cosa si fa? si va su Binance andate su Binance e dovete comprare 105 dollari di Litecoin una volta comprati 105 dollari di Litecoin su Binance andate su Wallet Wallet Spot cercate dove c'è la stringa di Litecoin e cliccate su preleva a quel punto vi chiederà di inserire un indirizzo di un wallet e chiaramente andate ad incollare quello che avete copiato in precedenza da Nexo incollate effettivamente l'indirizzo del wallet selezionate quant'è il valore di LTC che volete trasferire e in questo caso chiaramente li mettete tutti e semplicemente poi confermate l'operazione nell'arco di pochi minuti massimo 20-30 minuti dovreste ricevere tranquillamente il vostro token all'interno di Nexo una volta che avete ricevuto i vostri 105 dollari di Litecoin cosa dovete fare? andate qui sulla vostra home page di Nexo cliccate su Wallet e nel vostro caso voi troverete all'interno di Litecoin il vostro valore quindi c'è circa 105 dollari di Litecoin cliccate qui su poi dovete cliccare su Trade e Convert vi faccio vedere in questo caso con Tether perché chiaramente ho già swappato tutto in USDT quindi clicco qua sopra semplicemente cliccate su Trade e poi cliccate su Convert nel vostro caso dovrete convertire i 105 dollari di LTC in USDT perché vi consiglio di fare questo? perché USDT chiaramente essendo una stablecoin non è soggetta alle variazioni di mercato in questo modo non rischierete di perdere denaro mentre ce l'avete all'interno del vostro wallet di Nexo per aver accreditato effettivamente i propri 25 dollari di bonus di iscrizione all'interno di Nexo basterà semplicemente lasciare almeno 100 dollari per 30 giorni all'interno del wallet di Nexo mi rendo conto che magari per qualcuno possa essere un po' un problema mettere 100 dollari su Nexo per 30 giorni però chiaramente per chiunque potesse farlo io onestamente vi consiglio assolutamente di approfittare di queste promo perché onestamente si tratta di fare 25 dollari in modo completamente gratuito quindi anziché tenere questi 100 dollari su Binance sul conto corrente non so dove altro vi conviene tenerli qui in questo momento perché chiaramente vi frutteranno 25 dollari senza fare nulla ma ovviamente non è finita qui perché avete la possibilità di invitare a vostra volta anche i vostri amici per ogni singolo amico che inviterete guadagnerete ben 25 dollari quindi chiaramente non lo so proponetelo ai vostri genitori, alla vostra ragazza, ai vostri amici e potrete fare veramente un bel po' di soldi per invitare tra l'altro è veramente facilissimo basta entrare qui nella nostra app di Nexo come vediamo qua in alto a destra abbiamo questa icona con il regalo clicchiamo sopra e vediamo proprio che ci spunte il banner dove invitando degli amici guadagneremo 25 dollari in Bitcoin come si fa? chiaramente è molto semplice basta fare copy URL ok abbiamo copiato e possiamo tranquillamente poi incollarlo nei messaggi che vogliamo inviare ai nostri amici oppure clicchiamo su share e ci dà la possibilità di inviarlo tramite Instagram, Whatsapp, Telegram insomma tutto quello che volete veramente bene ragazzi per il video di oggi è tutto io spero che vi sia piaciuto e soprattutto spero che vi possa tornare utile sia per potervi creare una piccola rendita passiva grazie alla funzione earn di Nexo sia per poter approfittare di questa promo veramente pazzesca vi ricordo che la promo non ha una data ben definita quindi se volete approfittarne fatelo il prima possibile perché potrebbe scadere da un giorno all'altro fatemi sapere voi cosa ne pensate sia di questa promo sia di questa applicazione, di questo wallet in generale e per qualsiasi domanda chiaramente scrivetemi qua sotto nei commenti noi ci becchiamo, alla prossima!